Sicuramente è una vittoria molto importante perché è un campo difficile contro un avversario importante secondo me perché è una buona squadra, il Montegiorgio ha delle individualità importanti e ci ha messo in difficoltà naturalmente. Abbiamo affrontato bene la gara, abbiamo avuto un approccio importante, abbiamo reagito nel momento di difficoltà anche nel momento in cui abbiamo perso l'attaccante centrale che per noi è un punto di riferimento quasi fondamentale e alla fine abbiamo sofferto nel modo giusto e siamo riusciti a mantenere il vattaggio e a portare a casa la vittoria. Molto bene nel primo tempo, siete stati molto aggressivi sul loro palleggio, molto cinici anche nel secondo tempo nello sfruttare le disattenzioni difensive. Sì, sicuramente abbiamo impostato la gara nel primo tempo più in modo offensivo naturalmente anche perché avevamo dei giocatori in campo che ha posto proprio considerando fall che ci dava la possibilità anche di giocare delle palle alte dove ce le andava a prendere e poi appena siamo andati in vantaggio naturalmente nel secondo tempo con tante difficoltà e molto sacrificio abbiamo pensato più a coprirci per ripartire e cercare di chiudere la gara e devo dire che devo fare veramente un applauso ai miei ragazzi, a tutti quelli che sono scesi dall'inizio e che sono entrati e quelli che magari sono arrivati in panchina perché veramente abbiamo sofferto tutti insieme per raggiungere questa vittoria. Parlato più volte dell'importanza di Fall, il suo infortunio sicuramente è la nota stonata della giornata ci dia qualche ragguaio sulle sue condizioni? Ma ho chiesto appena sono entrato e mi hanno detto che per adesso sta bene, insomma si è ripreso poi naturalmente valuteremo in settimana, sì naturalmente per il nostro gioco è un giocatore importante e fondamentale però ecco ci tengo ad esaltare veramente la prestazione di tutti i miei ragazzi perché oggi veramente si è visto uno spirito di sacrificio, ripeto, contro una squadra importante una squadra forte, una squadra che ci ha messo in difficoltà è una squadra che secondo me merita molto di più dei punti che ha fino ad oggi. Grazie a tutti